Se si dice, poi c'è questo punto, voi vogliono capire, non sapete che esistono, è il tema che arrivano bene così più lungo, questo è il mondo, lasciamo ancora, chiamate a dare tutti quanti montati, spalgo spalgo, d'altro che ci vuole fare, siamo tutti qui, c'è il metodo, un rischio da cercare quando fa, se poi pensate, rontano la camorra, con una macicina, in base ai chilometri, onestamente penso che un rischio al di maro ci va, al di non ci va, ma non è tutto, forse, forse non è tutto, se vuole scampare questa cosa, cioè con la serie a questo è il vostro, e con la serie verso, di Mauro, come si chiama, tipo di Mauro, non la scampano, non la macicina, sono più forti dei punti, ho problemi mia, bisogna andare a vedere anche questo, non è un certo di capolista, cioè se pensa che gli do, non è una scuola in situazione, a sbagliare un altro cosa, e chiamare un filanese, potuto dire per me, non sono conosco, proprio, mi vado a cercare questo, il vostro, vorrei che ineditare ci è classi della popoletta, la stella in russa del tra le set, il vostro, centro nel progrado, rappresenta la vostra storia, può이러ca un segno, né facendo il stretto dell'est害, del Storia, del зачем, del presidente del Brasile, delencies eighth volto testo...